In teoria ha preso la moto e è già partito. Ah ok, ciao! Che tardi però! Pronto? Salve signora, parlo con la mamma di Francesco. Sì, sono io. Sono l'imperatore del 112 e ci raggiungo il porto soccorso perché Sofia ha avuto un incidetto in moto. Arrivo. Sì, ma perché dovevo andare a finire così? Sì, poi lo sai, sulle strade non bisogna correre. Rallenta, c'è qualcuno che ti ama. Ciao. 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 Ciao.